Le scelte che facciamo ogni giorno come manager e come persone possono influenzare la vita di tutti noi e quella delle generazioni future. In Stantec abbiamo preso un impegno serio nei confronti della sostenibilità e abbiamo avviato un programma di riorganizzazione e di innovazione per diventare un'azienda sempre più attenta alle persone, all'ambiente e alle risorse finanziarie di cui disponiamo. Non solo, grazie ad una partnership con il professor Maurizio Zollo dell'Università Bocconi e con il programma Golden for Sustainability siamo orgogliosi di poter accompagnare i nostri clienti in questo processo. L'impresa sostenibile è in grado di creare valore sia economico che umano in termini di benessere per tutti i suoi stakeholder, quindi i dipendenti, i clienti, gli investitori, i fornitori e le comunità a cui si riferisce. È evidente che questo vuol dire essere in grado di coinvolgere tutti i suoi stakeholder nei processi chiave, nei processi strategici dell'impresa. vuol dire sostanzialmente integrare gli interessi, i bisogni degli stakeholder nelle scelte strategiche, ma anche nelle strutture di governance, nei processi chiave dell'impresa, dai sistemi di incentivo, sistemi di controllo di gestione, sistemi di gestione della filiera, ma soprattutto nella cultura organizzativa e nei modelli di leadership. Per aiutare le aziende a seguire il percorso di trasformazione che le rende sostenibili abbiamo individuato cinque passi fondamentali. Primo passo, rinnovare la mentalità aziendale anche attraverso interventi di formazione innovativa basati sulle ultime ricerche in campo economico e delle neuroscienze. Secondo step, valutare il grado di sostenibilità dell'azienda attraverso un percorso di autovalutazione. Terzo passaggio, ridefinire gli obiettivi aziendali e individuare nuove strategie senza perdere di vista gli interessi di tutti gli stakeholder. Quarto passaggio, mettere in pratica le nuove strategie sostenibili individuate tramite progetti pilota che verranno misurati per stabilire le nuove performance. E infine, quinto passaggio, applicare le innovazioni testate tramite i progetti pilota a livello dell'intera organizzazione. Cosa vuol dire cinque passi per la sostenibilità? Nel concreto può voler dire rivedere il proprio modello di leadership coinvolgendo la riorganizzazione delle risorse umane, oppure allineare gli incentivi aziendali ad obiettivi di sostenibilità, oppure coinvolgere stakeholder esterni all'interno dei propri processi decisionali. Può anche significare fare ricerca per la soluzione di problematiche ambientali, tecniche, sociali, utilizzando tecnologie, prodotti e servizi in linea con il proprio concetto di sostenibilità. Infine, può voler dire affidarsi ad interventi di formazione comportamentale innovativa. Instantec ci crediamo e lo stiamo facendo. Adesso tocca a voi.